buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra di investire.biz e ben ritrovati a un'altra puntata di Turbo Daily sembra essere tornato il sereno sui mercati dato che gli indici americani futures indicano una ripresa rispetto alla settimana precedente dove abbiamo appunto assistito a un crollo abbastanza repentino torno il sereno perché sostanzialmente il numero uno della Fed ha dichiarato che effettivamente questa inflazione molto probabilmente resterà temporanea e quindi l'aumento dei prezzi che si è verificato negli ultimi giorni non sarà simile o analogo agli scenari capitati già negli anni settanta quindi sostanzialmente gli investitori tornano a comprare indici americani oggi vorrei focalizzarmi più che altro sul versante europeo visto che l'agenda il calendario economico è ricco di market movers molto importanti che potranno dare comunque segnali operativi molto interessanti tra questi abbiamo soprattutto l'indice pmi dei servizi e l'indice pmi manifatturiero oggi puntiamo su mediset visto che in agenda è previsto anche la riunione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 quindi direi di andare subito sul grafico per vedere quali sono i livelli operativi del titolo individuiamo innanzitutto un trade a rialzo cercando di sfruttare l'ultimo pullback a cui abbiamo assistito la settimana precedente mediaset torna a rimbalzare all'interno ovviamente di un trend rialzista robusto a livello di 2,80 euro e sarà il nostro livello appunto di ingresso che sfrutteremo per l'operazione di oggi lo stop loss da 2,60 euro va posizionato al di sotto dell'impulso rialzista a cui abbiamo assistito verso metà maggio che in realtà è un livello anche molto interessante dal punto di vista tecnico visto che già nel 2019 si è presentato sotto forma di un triplo minimo stessa cosa per il nostro target a 3,20 euro un target molto ambizioso che potrà essere raggiunto solamente se mediaset riuscirà a superare la soglia psicologica dei 3 euro che vi ricordo essere comunque un livello molto interessante da attenzionare visto che sempre nel 2019 è risultato essere un triplo massimo che ha portato infine il titolo mediaset a ribassare fino ai livelli post covid ad atterrare fino alla soglia di 1,40 euro direi di spostarci sul sito di bmparibas per vedere il certificato di oggi io vi ricordo che basta andare su investimenti.bmparibas.it per selezionare i nostri certificati andare cliccare su certificati alleva turbo certificate e infine andare a selezionare il sottostante in questo caso mediaset la strategia turbo long e infine selezionare il certificato il certificato di oggi termina con il codice UE8 e ha una leva di 4,17 tale da avere un livello di knock out impostato a 2 euro e 20 centesimi e una distanza del 23 per cento circa il prezzo lettera al momento quota 0 euro e 70 centesimi quindi andiamo sulla piattaforma operativa infine per eseguire il trade un trade che verrà eseguito al prezzo di 0,55 centesimi per 1818 pezzi eseguito il trade andiamo infine a fare il recap dell'operazione di oggi abbiamo detto che il sottostante il titolo mediaset per una strategia rialzista il livello di ingresso impostato a 2 euro 80 uno stop loss a 2 euro e 60 infine un target a 3 euro e 20 centesimi per oggi è tutto io come sempre vi do direttamente appuntamento a domani per un'altra puntata di turbo daily le grazie a tutti per Howard